Abbiamo appena salutato la candidata sindaca per Buseto, Antonella Dragna, come dicevo sono in studio con il candidato sindaco per Paceco, Aldo Grammatico. Ben ritrovato Aldo, come stai? Ben ritrovato direttore, buongiorno, bene, abbastanza bene, siamo in corsa, ci aspetta ancora un mese personalmente per farmi conoscere per chi ancora non sapesse chi sia Aldo Grammatico e per ancora ascoltare i nostri cittadini. Eppure, insomma, già hanno avuto modo di Paceco di conoscerti cinque anni fa, perché sei stato candidato a sindaco oppure alle passate amministrative. Questa volta ci riprovi, ti rimetti a disposizione con maggiore convinzione, maggiore determinazione e anche più strutturato. Sì, cinque anni fa diciamo che è stata un'avventura diversa rispetto a quella di oggi che ci vede scendere in campo con una squadra, appunto come dici tu Nicola, più strutturata, con più esperienza amministrativa e sicuramente più pronta a prendere in mano la gestione del comune. Cosa ti ha convinto a rimetterti a disposizione? Cosa mi ha convinto? Diciamo che adesso ho cinque anni in più di motivi per ripropormi. Il paese purtroppo non è cambiato, vive in uno stato di immobilità più o meno da 25 anni, anche 30 forse. E quindi ciò che mi spinge ad entrare in campo, a parte l'appoggio di tanti, è appunto la voglia di poter cambiare, cioè quella voglia di poter mettere qualcosa di nostro per il nostro futuro e per quello dei nostri figli. Una squadra eterogenea dal Movimento 5 Stelle che continua a puntare su di te, c'è il Partito Democratico, ci sono diverse altre forze che ti sostengono, sul Chiamanord di Catano De Luca addirittura, sei riuscito davvero a convincere un po' di forze politiche attorno alla tua candidatura? La mia candidatura nasce, non era nelle mie intenzioni questa volta quella di propormi in una candidatura a sindaco, però alla fine sul mio nome si è creata coesione in maniera anche inaspettata da parte mia, perché appunto cinque anni fa vedevo scendere in campo col Movimento 5 Stelle, ma qualcosa sicuramente l'esperienza di cinque anni fa ha lasciato anche agli occhi degli altri e quindi appunto si è riusciti a fare coesione sul mio nome. Vogliamo raccontare la squadra che ti accompagna, le candidati al Consiglio? Sì, abbiamo una squadra che al suo interno ha degli assessori uscenti, poi ci sono dei candidati che già erano in Consiglio, sia in opposizione che in maggioranza, però sono convinto di avere le migliori figure uscenti della passata gestione. Devo fare dei nomi? Se vuoi, se no no. No. Per non... Ci si conosce un po' tutti, no? Sì, sulla piazza insomma ci si conosce tutti, rimproverò me di essere il meno conosciuto della squadra, ma purtroppo come cerco di spiegare sempre anche ai miei concittadini, dico essendo un non più giovane e magari ritorniamo sulla candidatura che tanti dicono la candidatura di un giovane, però insomma come un po' tutti quelli della mia età, in un primo momento dopo gli studi si va fuori per lavoro, chi è fortunato riesce a ritornare e quindi è d'obbligo per chi ritorna insomma impegnarsi, secondo me impegnarsi poi nella vita politica del proprio paese. Beh, io la penso leggermente e diversamente dalla te, perché non si tratta per chi ritorna, chi vive nel proprio territorio solo di fortuna, ci vuole anche tanta determinazione e convinzione per rimanere in questa terra, proprio per questo sei tra virgolette costretto a dare poi qualcosa al territorio. Che cosa per esempio in termini di programma amministrativo? Perché la figura, la candidatura di Aldo Grammatico deve emergere rispetto a quella di Salvatore Buongiorno, per quanto riguarda il programma, giusto al di là degli aspetti personali? Per quanto riguarda il programma, noi abbiamo un programma, non è un programma che prometterà le stelle, ma è un programma che sicuramente si occuperà di ridare dignità a questo paese. Dalle consultazioni che ho avuto con i miei compaesani in questi giorni, insomma, viene fuori la necessità di una cura appunto del paese. Quindi si parte dalla base, purtroppo nel 2023 siamo costretti a parlare ancora di strade asfaltate, siamo costretti a parlare di mancanza di fognature, siamo costretti a parlare di mancanza di acqua. Sono problemi storici per Paceco, quindi noi cercheremo di impegnarci innanzitutto su questo, sulla cura delle strade, sulla discerbatura e quindi rendere dignitosa la vista del nostro paese, rendere un po' di bellezza, quella bellezza che manca e che quando manca ci fa sentire, come dire, un po' abbandonati e noi questo senso di abbandono lo dobbiamo eliminare, perché nell'abbandono c'è la rassegnazione e non ci dobbiamo rassegnare, anzi dobbiamo lottare per avere la bellezza e per avere il nostro futuro. Nel nostro programma ci sarà più attenzione per il cittadino, nel nostro programma ci sarà più attenzione nei riguardi della riserva e soprattutto in questa zona di Nubia che è il volano economico e turistico del nostro paese. Mi vuoi spiegare meglio che significa più attenzione? Ma più attenzione significa intanto costituire un tavolo di confronto sia con l'ente riserva che con i paesi limitrofi, quindi i travani, i misericieni, perché dai primi colloqui che ho avuto anche con l'ente gestore della riserva, insomma questo negli anni passati non è che si sia fatto o meglio non sono mai riusciti a concretizzare un accordo che fosse stato poi definitivo e da volano per il turismo e integrante per quanto riguarda la popolazione di Nubia stessa. Va bene così? No, va bene così, nel senso cercheremo di portare un turismo che sia compatibile appunto con la riserva, quindi un turismo anche lento, un turismo che sia attento alle specialità del nostro territorio. Come si fa ad ottenere questo? Pensi di fare campagne pubblicitarie sui grandi network nazionali? Spiegamelo, come si fa a determinare l'arrivo di un turismo lento, insomma interessato nel nostro territorio? Lo sforzo deve essere fatto sì anche a livello pubblicitario sicuramente, però noi abbiamo una fortuna, una fortuna che negli anni Nubia sta diventando un volano turistico per il nostro territorio, di per sé, per quello che sono le bellezze naturalistiche che il nostro territorio ha, quindi questa gente già arriva, cioè i turisti già arrivano, ne è dimostrazione l'alto numero di B&B che negli anni si sono sviluppati sul territorio di Nubia. E tutto ciò è avvenuto senza una collaborazione appunto da parte, o un aiuto da parte del Comune. Quindi noi dobbiamo soltanto entrare in campo, entrare in campo ed essere una spalla sia, ripeto, per l'ente gestore, ma dobbiamo essere una spalla anche per chi su questo territorio ha investito e sta investendo. Sarà forse l'ennesima volta che faccio questa domanda a un candidato sindaco per Paceco, non mi ricordo se cinque anni fa ne abbiamo parlato con te, però è una cosa che mi dispiace. Nubia è bellissima, ovviamente la riserva delle Saligliene, un posto meraviglioso, attrattivo, tanti B&B ma poi non c'è una spiaggia. Tanti B&B ma non c'è una spiaggia. Perché la costa non si presta, lì è difficile, mi è stato detto, negli anni dice come facciamo perché c'è la Posidonia, ci sono gli scogli, non si riesce a farla diventare una vera e propria spiaggia in qualche maniera. Invece si può? No, invece, allora, non voglio esagerare dicendo che si può. Ci si può lavorare, nel senso possiamo trovare delle soluzioni sempre assieme all'ente gestore della riserva. Allora, storicamente non è mai stata una spiaggia, la spiaggia di Nubia, però è pur vero che se ci impegniamo 100 metri lineari li possiamo anche ripulire, accantonare le alghe e poterli sfruttare. Io in questi incontri con gli abitanti di Nubia ho posto ad esempio il mio atteggiamento da villeggiante di Marausalido e allora quando a luglio ancora non veniva pulita la costa, io siccome ho una bambina di 8 anni, quindi al mare piace andare, piace andare soprattutto dove l'acqua è bassa, così come è bassa Nubia, ma la spiaggia appunto non era pulita. Allora che ho fatto? Semplicemente ogni giorno quando andavo al mare, andavo al mare con il mio rastrello. Ho cominciato a pulire 10 metri, il giorno dopo i 10 metri diventavano 20, il giorno dopo il primo becchierello che mi ha visto mi ha detto, sa lei ha avuto una buona idea, quasi quasi da domani anch'io porterò il mio rastrello. Benissimo, il buon esempio porta a buone azioni da parte di tutti. E allora quel piccolo buon esempio è servito per pulire 80 metri di spiaggia, sostituendoci alla pulizia del comune, ma comunque abbiamo sfruttato quegli 80 metri. Quindi alle volte basta soltanto dare il buon esempio per poter mettere in moto una macchina. E questo cercheremo di fare, in sostanza. Certo, non è la stessa cosa. Non cercheremo di andare lì con il rastrello, ma voglio dire, cercheremo di dare il buon esempio affinché più persone possano seguirci. Anche perché io la vedo, ho una visione, c'è la torre, lì a Nubia. C'è una torre che è stata ristrutturata e lasciata lì. Purtroppo quei pochi interventi che negli anni si sono fatti sono stati poi abbandonati. Quindi tutto ciò che era abbandonato e ripreso è stato successivamente nuovamente abbandonato. Nessun progetto ha avuto un percorso di inizio e fine con un'assegnazione. E questo è uno delle nostre prerogative. Nel senso che i nostri progetti si nasceranno, si svilupperanno e avranno una chiusura. Perché purtroppo se poi vengono investiti i soldi non si ha poi la capacità di sfruttare le cose che sono state ripristinate e dove sono state investite i soldi, si capisce bene che tutto è inutile. Aldo, tu sei un uomo di mondo, sei stato a Milano qualche volta? A Milano sì. Di tutti, conosco molte città italiane, devo dire, le ho girate tutte. Milano forse è quella che conosco meno. Per sbaglio sei stato all'idroscalo di Milano? L'idroscalo di Milano non mi manca. E ci devi andare. Sai perché? Perché c'è lì l'idroscalo a Paceco che è il Parco Baiata. Dico, se ci sono riusciti a Milano, perché noi che ce l'abbiamo non riusciamo a far diventare questo posto un altro meraviglioso parco naturalistico, artificiale per quanto possa essere? Il Parco Baiata è, come dico sempre, un unicum della nostra zona che merita di essere sviluppato. Anche lì ci lavoreremo, ci lavoreremo noi in comune, con l'appoggio ovviamente dei nostri rappresentanti. Ma intanto non è che io lo voglio fare diventare, so che esiste un progetto stellare per il Parco, però già renderlo fruibile alla popolazione già sarebbe un piccolo passo, perché al momento non possiamo neanche fruirne. Non si può accedere. Non si può accedere. E quindi già creare un accesso alla passeggiata domenicale, alla corsa giornaliera per chi fa questo genere di sport, già sarebbe un piccolo passo in avanti. È chiaro, ripeto, che il Parco, soprattutto per il posto in cui si trova e per la bellezza che sicuramente ha, va attenzionato e su questo parco svilupperemo e creeremo dei progetti. Inutile negarlo, perché così sarà. Però ci tengo a dire concentriamoci innanzitutto su quello che abbiamo ed è stato trascurato. Che poi tutto il resto lavoriamo su quello che sarà il futuro e su quello che potrebbe diventare il resto. Paceco più verde, è più bello esteticamente? Me la racconti? Ma Paceco più verde, è più bello esteticamente, un piano del verde è da attuare, è la cura dei parchi, la cura del verde, come dire, la villa. Ora, tocchiamo il tasto villa. Tocchiamolo. Tocchiamo il tasto villa. La villa è nata, ricordo quando io andavo alle scuole elementari, andavo alle scuole elementari, nasceva questa villa e per noi, giovani pacecoti, era una bella cosa in più da avere a Paceco. sapevamo che a Trapani c'era una grande villa, a Paceco non avevamo la villa, era stata fatta, è stata fatta, però negli anni è trascurata, trascurata come tutto. Negli ultimi due anni, tre anni è stato rifatto il manto, però è stato anche assegnata al gruppo scout di Paceco la cura, ma non è stato poi garantito un aiuto anche economico al gruppo scout. Chiaramente negli anni poi tutto è sotto gli occhi di tutti, i bagni sono praticamente distrutti, vandalizzati, siringhe si sono trovate appese agli alberi, purtroppo in fase di pulizia. È chiaro che se non persiste un controllo all'interno della villa, se non esiste un buon impianto luci o un impianto di videosorveglianza, insomma se tutto è lasciato all'abbandono, è chiaro che nessuno potrà sfruttarlo. E quindi anche andare con dei bambini alla villa bisogna stare attenti al percorso che si fa. Insomma questo è un paese che ha bisogno di essere di essere curato, di essere curato perché è stato per troppo tempo per troppo tempo abbandonato. e noi ci impegneremo per farlo. Si legge proprio l'amarezza nelle tue parole. Ma l'amarezza c'è Nicola, perché se penso che già cinque anni fa quando mia figlia aveva tre anni, io ero in grosse difficoltà a Paceco, come sono in difficoltà tutti i genitori di bambini piccoli. Paceco purtroppo non è un paese adatto adatto a loro perché non c'è un gioco, non c'è un posto sicuro in cui stare. Purtroppo, e continuo a dire purtroppo, anche se tanti tra paesi si sono trasferiti sul territorio di Paceco per la pace che il territorio di Paceco offre, per la natura che il territorio di Paceco offre. Però poi, quando la domenica in famiglia si vuole far prendere un po' d'aria e un po' di vita ai bambini, rimane ben poco da fare. E noi dobbiamo attenzionare il futuro dei nostri figli. dobbiamo lasciare qualcosa a loro e dobbiamo sicuramente farlo organizzandoci e cercando di pensare a loro. Paceco, a proposito di futuro, l'espansione è possibile? Eventualmente come? Urbanistica, intendo. Allora, l'espansione urbanistica di Paceco che è già in atto, perché è in atto, è possibile lì dove il Comune interverrà intanto ad asfaltare tutte quelle strade che rimangono ancora non asfaltate e quindi fare quelle opere di urbanizzazione che sono fondamentali in un Paese che si appresta sto dicendo che si appresta ad entrare negli anni 2000 ma poi negli anni 2000 ci siamo da ben 23 anni. Ce ne siamo accorti poco perché, ripeto, in questi anni siamo andati indietro piuttosto che andare avanti. Però è possibile prendendoci prendendoci uro appunto delle opere di primaria importanza. Bene, ok. Buongiorno, il tuo avversario diciamo in questa competizione elettorale che rapporto hai con Salvatore Buongiorno intanto. Con Salvatore Buongiorno il rapporto è buono, è stato il mio professore al liceo, è stato il mio professore di filosofia, quindi c'è grandissimo rispetto per la persona. Però, insomma, è il competitor avversario. Però è un competitor avversario e quindi in questo momento dobbiamo dobbiamo sottolineare le differenze fra quel fra il nostro avversario e noi. Che consistono soprattutto? Differenze che consistono soprattutto nel modo di approcciarsi anche alla politica perché io vedo che ogni volta il professore sottolinea il fatto che noi abbiamo a suo dire padroni e padrini. Dico forse sarà perché è una frase che va molto di moda ultimamente però, insomma, io non mi sento di appartenere a nessun padrone e a nessun padrino. Sono stato sempre libero di prendere le mie scelte e nessuno all'interno della mia squadra penso sia vittima di padrini ecco, di diktat. insomma siamo ragazzi che credono in quello che fanno e siamo ragazzi liberi quindi la paura di essere abbiamo come dire dei referenti ma avere dei referenti politici ad un livello superiore non penso che sia una vergogna anzi credo che sia fondamentale se lì dove si hanno dei progetti difficilmente si possono portare avanti se non c'è un riferimento politico di livello superiore che li possa portare avanti e quindi ci riteniamo stretti ma rimaniamo con la nostra identità pacecosa e con la nostra identità personale che ci spinge ad andare avanti a prescindere da chi ci sia sopra di noi ai cittadini cosa vuoi dire dove li puoi incontrare insomma dai degli appuntamenti sì nei prossimi giorni noi abbiamo chiuso il programma da pochi giorni in questi giorni stiamo raccogliendo le firme per la presentazione delle liste e nei prossimi giorni ci sarà una data per presentare appunto la nostra squadra per presentare il nostro programma il nostro comitato è in via regina Margherita nella strada principale di Paceco sotto la piazza di fronte alla piazza ben visibile ne abbiamo un altro che è del nostro candidato Salvatore Ricciardi che è al birillo all'ingresso di Paceco insomma potete venire a trovarci il candidato sindaco sarà lì ogni pomeriggio ad aspettarvi ad ascoltarvi a spiegarvi quali sono i nostri progetti per Paceco noi ci siamo contiamo su di voi è importante il vostro appoggio speriamo di poter dare di poter dare quel cambiamento a Paceco che tanti che per tanti anni abbiamo aspettato se organizziamo un confronto a due televisivo partecipa grammatico ditemi quando ci sarò bene ho risposto è stato con noi Aldo Grammatico candidato sindaco per Paceco noi lo salutiamo gli auguriamo in bocca al lupo e buona competizione elettorale certamente ci vediamo da qua il 27 di maggio qualche altra volta confronto televisivo compreso che proveremo ad organizzare grazie per essere stato qui con noi questa è stata Res Pubblica Sicilia chiama Europa grazie per la visione